Saranno 230.000 le piante di gardenia distribuite in 3.000 piazze italiane da sabato 6 a lunedì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna. Torna l'appuntamento La Gardegna dell'Aism, promosso dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua fondazione. L'ormai consolidato evento di raccolta fondi è finalizzato al sostegno della ricerca scientifica e di progetti destinati soprattutto alle donne, le più colpite dalla sclerosi multipla, una malattia cronica, invalidante e imprevedibile, tra le più gravi del sistema nervoso centrale, le cui cause restano ancora sconosciute. I fondi raccolti contribuiranno anche a sostenere gli studi sull'insufficienza cerebrospinale venosa cronica, malformazioni vascolari che potrebbero rappresentare un altro fattore di rischio della sclerosi multipla. Siamo in tanti, ma possiamo e dobbiamo essere ancora di più. Le persone con sclerosi multipla possono contare su servizi sempre più di qualità grazie ai volontari, su una ricerca che mantiene le sue promesse. In Italia ogni quattro ore una persona riceve la diagnosi di sclerosi multipla. Sono principalmente i giovani tra i 20 e i 30 anni ad esserne colpiti, le donne in numero doppio rispetto agli uomini. Ed è per questo motivo che l'8 marzo l'Aism dedica a tutte le donne proprio la gardegna, diventato ormai il fiore simbolo della solidarietà per combattere la sclerosi multipla, con il messaggio di unirsi al movimento per fare andare avanti la ricerca. E quindi non possiamo e non dobbiamo fermarci ora. Un mondo libero della sclerosi multipla è il nostro comune, grande e forte obiettivo. Grazie agli sviluppi della ricerca scientifica sostenuta dall'Aism e da tutti noi, oggi è possibile una diagnosi precoce e le terapie disponibili sono in grado di rallentare la progressione della malattia e innalzare la qualità della vita delle 58.000 persone con sclerosi multipla. Per questo motivo è fondamentale investire, ancora e sempre, sulla ricerca. Di vitale importanza per trovare una soluzione alla malattia, sia per individuarne le cause, sia per trovarne in un immediato futuro una cura risolutiva. I fondi raccolti nelle piazze con la gardenia dell'Aism andranno a finanziare anche il progetto Donne oltre la sclerosi multipla, un programma ricco di servizi e strumenti innovativi in grado di informare e sostenere le donne colpite dalla malattia nei diversi ambiti della vita lavorativa, sociale e familiare. Alla campagna Gardenia è legato anche l'SMS solidale 45502. Fino al 14 marzo, da cellulare personale TIM, Vodafone, WIND, 3 e COP Voce è possibile donare 2 euro a favore della ricerca. Oppure chiamando lo stesso numero da telefono fisso Telecom Italia sarà possibile donare 2 o 5 euro. Dal 6 all'8 marzo sosteniamo dunque la ricerca scientifica Regaliamo una gardenia per aiutare le donne a sconfiggere la sclerosi multipla.